Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi parliamo dell'aggiornamento di Le Mans Ultimate previsto per il 24 settembre, quindi tra pochissimi giorni. Vediamo subito quali sono le novità che introduce Studio 397 con questo nuovo aggiornamento, questa nuova patch, attesissima anche questa. Parliamo di rivoluzione nel multiplayer con modalità COOP asincrona che permetterà ai giocatori di formare squadre fino a tre piloti e affrontare gare in eventi a tempo limitato. Ogni pilota potrà gareggiare contro avversari controllati dall'intelligenza artificiale, accumulando punti in base alle difficoltà scelte dell'intelligenza artificiale, della posizione di gara, dei sorpassi effettuati e della condotta pulito o meno in gara. Il sistema prevede anche ragazzi una possibilità di passare il testimone a un compagno in un momento successivo, purché l'evento ovviamente non sia concluso. Il punteggio totale della squadra sarà visualizzato in una classifica globale che potrebbe essere utilizzata per eventualmente eventi come il virtual Le Mans oppure concorsi a premi. Questa modalità quindi introduce il sistema nativo per invitare gli amici in un'area dedicata per condividere i risultati di ogni istinto. Altra novità attesissima è la possibilità di salvare i progressi a metà gara che si integra perfettamente con la modalità co-op e ogni volta che un pilota si fermerà i box sarà possibile accedere a un menu principale per gestire la strategia di pit stop con cambio gomme, rifornimento carburanti, riparazioni e ovviamente salvare anche la partita. Il gioco offrirà anche un sistema di salvataggio automatico permettendo fino a tre salvataggi rotativi automatici appunto così se vi dimenticate lo farà lui per voi. I giocatori da questo momento potranno scegliere sia la stagione del FIA WEC da vivere tra il 2024 e il 2023 con un'interfaccia migliorata che raggruppa tutte le vetture e le livree specifiche di ciascuna stagione. Inoltre selezionando un'auto saranno visibili maggiori dettagli sullo storico in relazione alle stagioni o agli eventi in cui ha gareggiato. L'aggiornamento completa le categorie Hypercar del 2024 con nuove livree mentre la classe LM P2 riceverà design ufficiali della stagione in corso espandendo quindi le opzioni disponibili per le gare in modalità offline e online. Sebbene le mansa ultimate ragazzi e qui tenetevi forte non supporti ancora ufficialmente la realtà virtuale gli sviluppatori hanno comunque incluso alcuni miglioramenti per chi utilizza la modalità VR nascosta e io vi ho anche detto in qualche video come si fa. Anche se questa versione quindi non è definitiva e manca di un HOD completo il team ha comunque implementato alcuni cambiamenti per migliorare l'esperienza di chi forza l'uso del visore perché sono all'ascolto e sanno che anche questa è una priorità molto richiesta soprattutto perché potrebbe aumentare le vendite di le mansa ultimate di coloro che l'hanno parcheggiato in attesa che questa feature venga implementata. Parliamo del DLC Pack 2 Circuit of the America e nuovi hypercar infatti nel secondo DLC a pagamento sarà disponibile questo 24 settembre che includerà appunto il circuito Cota Circuit of the America tracciato texano che torna nel calendario FIA WEC del 2024 e due nuove hypercar l'Isotta Fraschini tipo 6LMHC e l'Alpine A424. Il DLC sarà acquistabile a 11,99€ su Steam oppure sfruttando il Season Pack 2024. Il terzo DLC previsto entro la fine dell'anno introdurrà le prime vetture GT3 nel gioco. Le prospettive future che dichiarano lo studio 397 anticipa delle novità come ad esempio il supporto di server privati e alle leghe di corse gestite dalle community. Inoltre quindi ragazzi stiamo parlando della possibilità di creare dei server privati e gestirsi i propri campionati che non è male, è da un po' che aspettiamo sta cosa. Inoltre stanno considerando anche un servizio in abbonamento dedicato ai campionati online che renderà più competitivo l'Eman's Ultimate e creando una sorta di carriera online il che ovviamente si avvicina tantissimo a quello che è il modello di iRacing. E dico io finalmente così magari anche con questo sistema riuscite forse a sostenervi economicamente. E inoltre a partire dal 30 settembre il prezzo del gioco aumenterà del 15% per riflettere l'incremento dei contenuti e delle funzionalità. Ovviamente più crescono i contenuti più il gioco base aumenta il suo prezzo. Altra figata pazzesca ragazzi che ho lasciato per ultimo è la possibilità di fare finalmente tramite le community streaming delle proprie gare migliorando l'HOD per avere maggiori informazioni su quello che sta succedendo ma soprattutto mi chiedo come hanno potuto migliorare e normalizzare il force feedback di Eman's Ultimate. Non vi basta? Ok vi do l'ultima kick e poi concludiamo. Con l'aggiornamento avrete la possibilità di salvare la posizione del vostro sedile per ogni singola macchina quindi non in modo generale. Non siete ancora soddisfatti? Allora nuova modalità di selezione delle auto adesso nel menu avrete la possibilità di selezionare in base alla categoria all'anno di produzione alla livrea specifica alla cilindrata all'anno insomma tutto quello che è possibile selezionare. E se ancora non siete sazi di novità per Eman's Ultimate benissimo studio 397 ha confermato con l'uscita della PS5 Pro che dovrebbe avere le caratteristiche per far girare Eman's Ultimate lo sviluppo futuro probabile per console. Conclusione ragazzi ecco un altro bellissimo aggiornamento che arriverà tra pochissimi giorni. Come al solito io vi chiedo un pollice in su se questo video vi è piaciuto. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video. Lasciatemi un commento ditemi che cosa ne pensate di questo mega aggiornamento anche di Eman's Ultimate. E ovviamente iscrivetevi al canale tanto è gratuito. Noi come al solito ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto un abbraccio ciao. Grazie a tutti.